Ricordati di cliccare su mi piace, iscriviti e attiva la campanella. Imprevisto in volo per Elettra Lamborghini e il marito Afrojack. La coppia di ritorno da una fuga romantica a Parigi. È salita a bordo del jet privato per poi trovarsi immersi in una tormenta. Il ritorno a casa con il jet privato è stato un vero disastro e ha messo in grande pericolo la coppia. Vediamo cosa è accaduto. La cantante, che si prepara a tornare in tv con un nuovo programma su Sky, ha raccontato quanto accaduto, documentandolo sui suoi social. A metà viaggio è stato abbastanza sereno, siamo stati tranquilli. Iniziamo a scendere cercando di schivare la tormenta. Ci ritroviamo nel mezzo della tormenta e inizia a diluviare fortissimo. Atterriamo nella pista nel bel mezzo della tormenta ed il pilota inizia ad urlare i freni non funzionano. Ci schiantiamo nell'erba che, grazie al cielo, non ci ha ribaltato ma frenato. Elettra ha avuto molta paura per la sua incolumità, rischiando di schiantarsi con il jet privato. A causa del maltempo, esagerato che l'ha accolta, e di un problema ai freni. Fortunatamente stanno tutti bene, passato il grande spavento. Per restare aggiornato, iscriviti al canale e attiva la campanella.